Nuova Hyundai Tucson Full Hybrid. È qui, ancora più efficiente, grazie ai motori ibridi di ultima generazione e con un innovativo display da 12,3 pollici. Per fortuna che c'è Tucson. Nuova Hyundai Tucson Full Hybrid. Fino a 5.700 euro di vantaggi grazie all'eco-bonus statale, con rottamazione e finanziamento Hyundai Plus. Scoprila nelle versioni plug-in, full e mild hybrid. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 30 giugno, fino ad esaurimento fondi. Scopri info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it I rumors dicono che sta per uscire il disco di Playboy Kart, cioè nel senso che uscirà, non è scontato, visto che sono usciti solo video su YouTube, tracce messe lì, a volte rimosse, sempre mosse un po' in fingarde, senza nessun ordine cronologico, senza a volte alcun senso, ma portando diciamo sempre quel mood che rappresenta un po' quell'artista e quella corrente. Quindi a me sembra tutto coerente e in ordine, nonostante tutto. Perché è tanto tempo che non esce un disco ufficiale? Io ci ho pensato. Io credo che sia anche molto relativo alle pressioni, alle insicurezze, che non derivano tanto solamente dal mondo esterno, che fa comunque la sua parte, ma da se stessi. Questi sono artisti che innanzitutto fanno un genere che dir si voglia, nonostante i numeri che hanno portato in certi momenti e portano certi personaggi in modo particolare. Tanti altri che lo fanno no, anzi la maggior parte no, però comunque un genere sperimentale. Quindi giustamente è una roba che ti convince oggi, magari la schifi tu stesso domani, però magari c'è attorno un sacco di persone che ti dicono no, guarda spacca, no, guarda sei futuristico, stai nel 2300. Poi magari col tempo dici no, sta roba non va bene. Perché? Perché appunto è una roba troppo sperimentale, che appunto non segue nessuna logica. È un gioco di flow, un gioco di sottotesti. Non è facile capire quale traccia può effettivamente piacere al pubblico e a te stesso. Se poi parliamo di personaggi che comunque non è che fanno una vita a casa e chiesa, quindi anche il cervello poi ti si staccano tutti e sei là che cerchi di capire cosa funziona e cosa non funziona, l'autostima che sale e scende up and down. E quindi di conseguenza, secondo me, tanto vale un attimo restare sul catalogo, fare degli esperimenti, cercare di capire, andare avanti, proseguire, ogni tot di tempo far vedere che ci sei, ma far uscire un disco è una cosa che fa paura. Fa paura anche se pensiamo al fatto che ci sono delle aspettative, anche l'immaginario che viene portato di notte sembra il top, di giorno può sembrare macabro a volte. E quello ci bisogna farci conti. Ed è una cosa che, cioè ciò che sembra figo a un milione di persone può sembrare macabro a due milioni di persone. Dove vai? Il senso è ciò che ha rivoluzionato prima. Magari domani è ridicolo. Queste sono tutte cose che pensa l'artista, soprattutto sotto effetto. Quindi io ci penso al fatto che ci sono delle motivazioni interiori che magari portano questi personaggi. E poi c'è anche il fatto che una roba, fino a che non la tiri fuori, vive in te. Quando la tiri fuori è come se te ne liberassi. Quindi noi, il grande momento del gran ritorno, facciamolo nel momento opportuno. E comunque, insomma, fino a che la barca va, grazie anche al passato, facciamolo andare. Ciao, sono Andrea Daniele Signorelli. Se sei interessato al mondo digitale, all'intelligenza artificiale, ai social network, alla realtà virtuale e aumentata e all'impatto della tecnologia sulla società, hai trovato il podcast che fa per te. Si chiama Crash, la chiave per il digitale. Lo trovi su tutte le piattaforme di podcast. Insieme cercheremo di capire qual è il futuro che ci attende.